Benvenuti, siamo con la dottoressa Lara Milan, fondatrice di SEM Italy, dottore di ricerca in psicologia, neuroscienze e statistica medica, specialist in gifted and talented education. Benvenuta dottoressa. Grazie. Dottoressa Milan, nelle nostre precedenti interviste abbiamo parlato di come sia importante un lavoro sull'intera classe per creare un ambiente di apprendimento efficace per tutti, compresi gli allunni plus dotati. Può essere questo uno strumento utile anche per contrastare finora in quale il bullismo e il cyberbullismo? Sicuramente queste sono dinamiche che purtroppo sono molto attuali, ma io credo che si possa fare un lavoro che parte proprio dalle dinamiche che si possono manifestare in classe, anche negli atteggiamenti e nelle modalità con cui noi ci rapportiamo ai nostri studenti. In particolar modo adottando una terminologia che possa in qualche modo superare tutte quelle etichette che ormai imperversano nella scuola, per cui trovo oggigiorno superato parlare di DSA, DHD, DOP, gifted, twice exceptional, aderendo invece piuttosto a una valorizzazione della neurodiversità. Partendo dal presupposto che siamo tutti neurodivergenti e quindi se noi riuscissimo anche ad adottare questa nuova terminologia scopriremo che in realtà lo studente normo dotato di per sé non esiste, perché ognuno di noi è un unicum e quindi anche tante forme di bullismo che i ragazzi possono mettere in atto proprio perché intravedono delle differenze, vengano invece decurtate a una nuova concezione che si rapporta appunto a questa valorizzazione dei talenti e delle attitudini, delle disposizioni di cui ognuno di noi è portatore e che ci permettono di valorizzarci per quello che siamo, per quello che di innovativo apportiamo nella scuola e nel mondo grazie alla nostra unicità. Ecco, forse questa educazione alla comprensione delle nostre peculiarità potrebbe anche in qualche modo contribuire a disinnescare degli atteggiamenti che possono poi portare al bullismo e che si sfociano poi nel cyberbullismo che ha una portata ovviamente molto più ampia e più deleterie. Ecco, in questo contesto le emozioni assumono un ruolo sempre più importante dei modelli educativi. Ci siamo resi conto che i ragazzi hanno difficoltà nel riconoscere e gestirle. A volte non sono in grado nemmeno di dare un nome allo stato emozionale che stanno vivendo. Cosa possiamo fare per renderli più consapevoli di loro stessi? Beh, questo è un argomento attuale anche legato a quella che è insomma il tragico epilogo di alcuni eventi che ci hanno portato a riflettere più in profondità in quella che potrebbe essere un'educazione alle emozioni. Questo è un aspetto che però è generalizzato e applicabile a tutti i contesti, non solo quello scolastico. Tuttavia nella scuola ci sono anche delle peculiarità che pertengono a degli studenti che hanno una diversa o più elevata sensibilità e questa è una caratteristica che sperimentano molte persone creative e in particolar modo gli studenti cosiddetti gifted i quali per la letteratura scientifica hanno un'innata sensibilità emotiva che noi chiamiamo anche over-exceptability cioè sovra-exceptabilità che li porta a vivere le situazioni e le emozioni in modo molto più intenso rispetto agli altri bambini. Queste sovra-exceptabilità nella letteratura attuale sono valorizzate come superpoteri. Questi bambini infatti hanno un modo molto particolare, molto singolare di rispondere a varie sollecitazioni, a varie forme di stimoli sia interni che esterni. Ecco, queste loro manifestazioni alle volte possono risultare bizzarre nel contesto scolastico e anche di difficile comprensione sia per loro stessi che per i compagni di classe che anche per i docenti che non abbiano avuto una formazione specifica in gifted and talented education. Ecco, se parliamo di educazione alle emozioni dovremmo in primis aiutare questi bambini a comprendere che questa risposta eccessiva alle volte alla loro emotività porta ad avere comportamenti singolari di cui loro stessi si possono imbarazzare. E quindi in questo processo che investe tutta la classe è utile spiegare sia agli studenti che sono portatori di questa intensità emotiva che queste manifestazioni sono ricondicibili proprio questi superpoteri e quando vengono riconosciute, accolte nel contesto scolastico portano a una maggiore consapevolezza di quella che è l'emotività in generale ma anche la modalità in cui questi studenti la sperimentano in modo così intenso. Ecco, dottoressa, si parla molto di nuovi modelli ma ai docenti serve soprattutto il cosa fare. in pratica è un manuario operativo per poter affrontare le variabili che si presentano di volta in volta. Cosa fare dopo l'approccio teorico? Ma se questo aspetto incide solo sulla competenza che magari i docenti ritengono utile acquisire in diversi ambiti didattici attuali che pertengono anche per esempio alla Gifted and Talented Education e la ritengono sicuramente un utile bagaglio culturale e professionale è poi molto difficile tradurre questi concetti questi aspetti teorici nella pratica educativa e non è a caso che recentemente abbiamo fatto un ultimo incontro con lei in cui parlavamo del manuale plus dotazione e talento che è proprio stato pensato per tradurre queste competenze teoriche in strategie didattiche da implementare in classe. Strategie che non servono solo agli studenti plus dotati o di talento ma che sono utili veramente a tutti ed è per questo che gran parte del progetto che porto avanti in Italia non è ad uso esclusivo degli studenti che hanno una dotazione cognitiva al di sopra della media ma è anche a vantaggio di tutto il gruppo classe non escludendo tra questi gli studenti doppiamente eccezionali e gli studenti gifted in sottorrendimento scolastico. Come tradurlo? Beh, sicuramente il modello SEM è un modello che al di là dei principi pedagogici e teorici che lo fondano si è dotato di una serie infinita di strumenti di scale di valutazione di software che aiutano il docente a implementare il modello in classe. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda. In Italia molti genitori di figli plus dotati hanno difficoltà ad interagire con la scuola su cosa fare per i propri figli. In pratica non è facile accogliere e lavorare con studenti plus dotati. Lei ha avviato una serie di sperimentazioni realizzando un modello già in funzione in alcune scuole da poter replicare in vari contesti. Ci spiega come funziona? Sì, ho avuto il privilegio di implementare per la prima volta in Italia nella scuola pubblica italiana il modello di arricchimento scolastico che è un volume che è stato pubblicato da Junior edito da Junior Spaggiari per infondere questa metodologia didattica all'interno del contesto italiano validandolo con un dottorato di ricerca. Questa prima sperimentazione ha poi dato vita a una serie di contaminazioni che hanno portato a implementare il modello SEM anche in una scuola secondaria di primo grado a Varese che è già al terzo anno di implementazione del modello SEM e quest'anno inaugurando una scuola bilingue scuola primaria e secondaria di primo grado a Milano. Ecco, questo per dare il messaggio a tutta la comunità di genitori di bambini plus dotati ma anche alla comunità educativa che un cambiamento è possibile con le competenze necessarie di cui si sono dotati tutti i docenti di entrambi queste scuole incluse dirigenti si può adottare quella che è un modello di didattica inclusiva che sviluppa il talento e il potenziale di tutti gli studenti in un'ottica inclusiva questa metodologia si arricchisce inoltre di una serie di strumenti di cui appunto il SEM dispone ma anche di una serie di strumenti operativi che ho importato a partire da quest'anno in esclusiva in Italia a comprensione e supporto della doppia eccezionalità che ci permettono di aiutare i docenti a redigere anche un PDP per studenti doppiamente eccezionali che difficilmente vedono valorizzato il loro potenziale ma vengono essenzialmente attenzionati per il rimedio delle loro fragilità ecco il modello SEM è veramente una ventata di innovazione che investe tutti gli attori che gravitano intorno alla scuola non solo docenti dirigenti e studenti ma anche il tessuto sociale la comunità che vive attorno alla scuola in quanto è in grado di importare all'interno del contesto scolastico sperimentazioni competenze e anche strumenti operativi delle diverse professionalità che vanno appunto ad arricchire come dice il modello stesso l'esperienza scolastica dei nostri studenti ecco il modello SEM non solo è in grado di adottare strumenti come l'accelerazione l'arricchimento e la differenziazione curricolare ma è anche in grado di sviluppare i doni e i talenti che alcuni studenti potrebbero avere e che sono diversi dalle materie curricolari e quindi potrebbero non venire nutriti in quanto il curriculum scolastico è già molto denso ecco il modello SEM è in grado invece di creare dei momenti laboratoriali all'interno dell'orario scolastico in cui grazie all'aiuto appunto di questi mentori esterni che portano le loro competenze la loro passione per la loro professione per la loro attività all'interno di queste attività laboratoriali possiamo appunto sviluppare i doni e i talenti di ciascuno e al contempo fornire una vera forma di orientamento in quanto gli studenti hanno la possibilità di sperimentarsi in un ambiente protetto in ambiti che magari la scuola non avrebbe avuto modo di includere e quindi di comprendere se hanno oggettivamente una predisposizione un talento in quel determinato ambito oppure potrebbe rivelarsi solo ed esclusivamente una passione un hobby che magari potranno comunque continuare a portare avanti nella loro vita futura ecco questa forma di orientamento comincia nella scuola primaria e quando gli studenti partecipano a una serie infinita di attività di arricchimento nei loro ambiti di interesse sono anche portati naturalmente a fare scelte di scuola secondaria di secondo grado o addirittura universitaria ma perché no anche di vita e di carriera lavorativa molto più consapevoli in quanto queste scelte vengono operate in base a quello che loro sanno fare meglio non al trend alla moda alla scuola così di tendenza che magari è opportuno frequentare perché gli amici fanno questa determinata scelta ecco la loro vita sia scolastica che lavorativa viene costruita sui loro punti di forza e sui loro talenti che hanno imparato a riconoscere a scoprire e a nutrire grazie al modello SEM grazie dottoressa per essere stata con noi grazie a voi auguri a buone feste a tutti